Mary Jane ASMR ciao ragazzi bentornati a tutti quanti come avrete letto dal titolo questo sarà un video dedicato interamente allo speedpainting è stato tanto amato quando l'ho portato qua sul mio canale per la prima volta e dato i numerosi consensi ho deciso di riportarlo un'altra volta solo per voi se questo genere di video non vi dovesse piacere potete tranquillamente schippare e se volete guardare altri miei video ma vi prometto che se rimarrete non ve ne pentirete pure l'assumento ciao ciao perché sei qui vorresti un piccolo trattamento estetico ok ti hanno già parlato del metodo che uso io si si è efficace si si vediamo un attimino cosa possiamo fare dimmi innanzitutto il viso il viso ok sei abituata a fare tutto a casa? si per ora per ora vorresti che quello non si prendi sicuro di te va bene va bene questo metodo innovativo ti tornerà utile e ti piacerà allora allora se sei d'accordo vorrei massaggiarti il viso proprio con la tecnica che ti accennavo prima questo qui è utile per massaggiare alcune zone del viso sono pietre di giada entrambe questa per la zona la zona un po' più piccola è tipo contorno che la zona delle occhiali questo per tutto il resto del viso da dove vuoi che partiamo? dalle guance dalla fronte faccio io ok se non 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 Sì, 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 sì. Ok, ok, ok Ah, ti senti più rinfrescata adesso? Sì, la pietra liberta rinfresca Sì 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 Nella zona del collo che è sotto il mento in giù Sì Sì Ok Sì Ti sentirai meglio più rinfrescata con questa pietra Pietra di Giada si chiama Sì 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 Fermo Sì Sì il primo trattamento No, 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 no. Oh, bene. Adesso posso leggere le più piccole con due occhi, questa zona qui dell'occhiaia, poi passaggio anche qui sulle sopracciglia, ok? Sì, tu devi rimanere sempre ferma e rilassata, tranquilla, ci penso io a tutto. Vi ho una tanzara che gira per la tanzara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, 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 ok. Provo adesso. Adesso starti le sopracciglia. Passaggio tutto il viso. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che dopo questo massaggio tu ti possa sentire meglio, più riposata. Ti aspetto di nuovo se tutto ciò ti è piaciuto. Ciao.